Ciao a tutti ragazzi, ben tornati in questo nuovo video, sono Francesco Pagano e oggi sono qui con una persona vuoi anche girare la fotocamera con una persona sono l'uomo misterioso del canale di Francesco Pagano sono venuto a casa sua perché mi ha invitato perché vogliamo fare una canzone, suo cuginetto più piccolo a questa cosa e madonna è troppo figo, madonna stritolo le dita, madonna il pollice è duro no, che te lo prendi? devo usare la tua voce normale capra guarda che ti faccio il dito medio scostumato allora, oggi cosa faremo? una challenge, continuiamo a prendere degli oggetti con questa cosa però questo oggetto non vale perché con te lo piglio non si prende vado al rilancio si levi? aspetta, aspetta come potete vedere questo pallone è dell'ailax ok vado al rilancio? vai naso terra e rilancio ok perfetto mamma che schifezza che schifezza va bene il primo oggetto è basta un rilancio un rilancio usiamo la scopa allora iniziamo dalla scopa ah c'è la farà non ce l'hai fatta la devi fare per sotto la faccio un attimo uscire ok ma come l'ho fatta a far uscire cioè prima entra ok va bene questo oggetto non lo possiamo usare faccio faccio io faccio io adesso ci provo io e dai mantieni questa fotocamera di merda che bello allora ma posso far favore come il mio cane finalmente basta tieni mi sa mi sa che non possiamo fare più niente mantello eh io credo che basti così l'oggetto l'abbiamo sollevato però per farci perdonare registreremo ancora un po' come è vlog intanto rimani fermo tu cosa fai? ti smutando io con la cosa come deve attare un albero tutorial come deve attare un albero? tutorial che fa fai? basta mandare anche lui i tuoi iscritti ma chi stai mandando a fanculo a me? no ho pure i tuoi iscritti stai mandando a fanculo alla tua vicina piuttosto a chi? alla tua vicina cioè? la tua vicina ma di quale lato? di questo ah questo è il mio cane presentalo come si chiama? Evelyn così adesso stai proprio spoilerando testo stai poi spoilerando a più hai guadagnato 50 moni come youtuber su life capito? ciao 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 un attimo possiamo sollevare solo un'ultima cosa la paletta mannaggia paletta si è presa pure l'espulsione basta ciao 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 a bene ma siamo finne a notizia, ciao